L'avvento del nuovo arcivescovo dell'Aquila, Monsignor Antonio D'Angelo, che succede al Cardinale Giuseppe Petrocchi, dà e là la presentazione del programma religioso della perdonanza, la prima sfida che attende Monsignor D'Angelo. Gli appuntamenti saranno diversi. Il 26 agosto alle 18 il priore Davide Semeraro sarà ospite del convegno dell'azione cattolica alle anime sante. Il clou chiaramente il 28 agosto, con la Santa Messa alle 18 e il rito di apertura della Porta Santa, che quest'anno sarà d'opera del Cardinale Giuseppe Petrocchi, che in questo modo saluterà anche la comunità di cui è stato con orgoglio pastore. Gli appuntamenti saranno i tradizionali, con la perdonanza dei giovani alle 22 e la veglia notturna a Colle Maggio, il 29 agosto sempre in Basilica, la perdonanza dei lavoratori, dei religiosi, delle forze armate, delle forze dell'ordine, dei ragazzi e catechisti, delle famiglie e dei malati, prima del rito di chiusura della Porta Santa alle 18 con Monsignor D'Angelo. Una bella novità è che il 15 e il 18 agosto le Santa Messe a Colle Maggio alle 10 e 55 andranno in diretta sul Rai 1, con la presenza dell'Arcivescove di Monsignor Antonini. È una sfida molto importante anche perché per la nostra comunità diocesana è un momento centrale dell'anno, della vita, diciamo così, pastorale, perché questo dono della perdonanza ritengo sia un dono speciale che il Signore ha voluto lasciare per mezzo di Papa Celestino V a questa comunità. Quindi ci prepariamo certamente con impegno ma anche con altrettanta serenità, proprio perché la perdonanza è un dono di grazia che in qualche modo riporta pace e serenità al cuore dell'uomo. La perdonanza farà da ponte anche al grande giubileo di Roma del 2025. A tal proposito, il 7 settembre, nella sala ipoggiata dell'emiciclo, in un convegno su Celestino V, sarà presente Monsignor Rino Fisichella, proprio responsabile lui dell'organizzazione del giubileo, e sarà un'occasione fondamentale per la Chiesa Aquilana. Nella bolla di indizione è stata inserita la perdonanza come una delle grandi esperienze spirituali che ha preceduto, direi profeticamente, il giubileo del 1300, il primo giubileo del 1300. Quindi questo rapporto con Monsignor Fisichella ci aiuta anche a capire come anche noi, come Chiesa Aquilana, possiamo accogliere i pellegrini a Collemaggio, come possiamo organizzarci, quindi stiamo lavorando in questa direzione per in qualche modo rientrare dentro quegli itinerari dei pellegrinaggi previsti proprio nell'anno giubilare. Grazie a tutti.